chiedono se vuole avere una bella vista di Washington cosa ne pensi di Washington? cosa ne pensi di Washington? bellissima città è una bella città possiamo fare una domanda per la RAI siamo della selezione italiana la RAI? si non c'è qui d'aglio bene dopo d'aglio da poco arriva è ancora stata la cerimonia non lo so perché l'arrivo ancora non è iniziato immagino che sia bella se questa è l'accoglienza come? se questa è l'accoglienza vuol dire che la cerimonia sarà bella se questa è la recepzione che ho ricevuto significa che il tutto avvento sarà bello grazie 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 was a youngster in those days and she's here today, she's alive today on account of Mr. Velasca so we have brought we have eyewitness accounts who will testify to the noble behavior of Georgia Velasca and this gentleman is Mr. Abraham Lani Aronai Abraham Aronai one moment please this is Mr. Abraham Aronai he is from Israel he was 12 years old and he was saved by Mr. Velasca he came purposely from Tel Aviv to thank and to pay tribute to his savior and this is Magda Lapidus this lady there were two gentlemen here from the Spanish press this lady was saved by Angelson's Brice who was the head of the Spanish diplomatic legation in Budapest and this lady is alive on account of the good deeds of Angelson's Brice and we'll talk about it tonight and there's another one her brother George who was also a child in those days and he has been saved by Perlasca George Mizei M-E-Z-E-I sure we have Abraham Aronai from Israel and we have Ivalanka a poetess from Hungary you will learn about it later there's a fabulous story that we will tell you 5,000 people more or less I mean you know there was of Yad Vashem and he was invited to Israel and he was awarded a righteous a righteous a righteous but what we have learned about it once we have discovered the highest the highest of the present and during government he was awarded the righteous christian and by the way Grazie. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. La famiglia della famiglia è stata in Washington. Come la stima? Come la considera? Credo bene. Diciamo, non parliamo di Saint Louis, qual è stato il ruolo della Spagna in tutta questa faccenda? Diciamo una cosa grazie. Diciamo! Un nipote! Un nipote! Nostro nipote! There c'è Tr jotka sta servendo già riuscendo « AA, Она! Anche Embrasse mi tempo». È necessario riuscarte Lo abbature, questo è la mia moglie Cris È giàvenuta Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. . 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